buongiorno e benvenuti nel mio canale video tutorial di indirizzo e non risolutivo su un problema che mi è stato posto nei commenti su youtube mi è stato chiesto se fosse possibile trovare il proprietario di un'automobile i dati di un proprietario di un'automobile a partire dalla targa dell'automobile stessa dunque il fatto positivo è che si è possibile farlo il fatto negativo è che non è possibile farlo gratuitamente quindi diciamo questo è un modo come fare per ottenere questi dati ma non ve lo posso far vedere effettivamente perché dovrei spendere 6 euro credo per poterlo fare il primo sito a cui rivolgersi è chiaramente quello dell'automobile club d'italia ovviamente tutti questi indirizzi io li metterò sia sotto il player del video nelle informazioni sia nel post che solitamente allego ai video che faccio si va sull'automobile sul sito dell'automobile club italia quello delle visure si va in basso su inizia qui ci sono le tariffe il costo è di 6 euro però ci sono altri servizi che si basano sull'automobile club d'italia che chiedono molto di più e quindi l'automobile club invita a stare attenti a quei servizi non autorizzati perché magari potrebbero far pagare molto di più di quanto invece far pagare effettivamente lasci sia su inizia si sceglie l'autoveicolo per esempio qui si digita la targa ma io di viso la targa del mio della mia l'automobile che chiaramente poi dovrò nascondere ci va su continua poi devo digitare il nome codice fiscali trattata di nascita oppure se il richiedente una società vado su continua e poi passo al pagamento per pagare il dovuto il pagamento non so come avviene ma probabilmente bisognerà avere l'applicazione pago pa della amministrazione pubblica che adesso non si chiama più così ma si chiama io che è la stessa applicazione che abbiamo usato per esempio ottenere il game pass o anche altre cose anche per il per il cashback con decorrenza dal primo gennaio fino al 30 giugno e questo per quanto riguarda la visura tramite a che costa appunto 6 euro ci sono anche altri siti per esempio questo qua costa 6,90 euro anche qua si inserisce il tipo di veicolo autoveicolo motoveicolo rimorchio si inserisce la targa nome cognome va inserito un indirizzo email che non sia del pec si accetta i termini e condizioni e poi si va su continua anche qui bisogna pagare 6,90 euro probabilmente in questo caso si può pagare anche con carta di credito ci sono servizi gratuiti un servizio gratuito c'è ma dà veramente informazioni minime e questo servizio in punto it servizi gratuiti si va sui servizi gratis e sono la verifica dei delle targhe dei veicoli anche qui si sceglie autoveicolo oppure un motoveicolo per esempio si si dice il numero di targa magari metto la mia vado su verifica vado su invia ecco quindi che mi danno i dati sulla mia targa che è stata immatricolata a firenze in toscana non mi dice nient'altro vedete non mi dice solo che che esiste che quest'automobile esiste che è stata immatricolata a toscana che euro 5 per verificare tutte le altre cose cioè per verificare la marca e il modello per calcolare il bollo o per avere l'informazione sul proprietario io dovrei accedere come iscritto accede come iscritto io vado o qui cliccare qui oppure qui accede come iscritto e come vedete per accedere come iscritto avere un user id una password se per fare una iscrizione si va su nuova iscrizione ma vedete che per potersi iscrivere bisogna pagare adesione per 10 giorni con 15 verifiche al giorno costano 9,90 euro per 30 giorni con 20 verifiche al giorno costano 29,90 euro eccetera eccetera quindi questo è tutto quello che si può fare per la verifica delle targhe non c'è niente di gratuito mi dispiace non poter dare ulteriori informazioni ma tutte quelle che ho trovate sono queste qua vi consiglio di leggere il post sotto il player per avere magari i link di tutti questi servizi per concludere lasci anche due applicazioni una per android e una per ios ac space e credo che si dica così che ovviamente serve innanzitutto per il soccorso asci nel caso in cui uno rimanga in panne serve anche per controllare i prezzi dei carburanti per controllare il bollo si può accedere e verificare i veicoli in nostro possesso ma con queste applicazioni si può anche controllare i numeri di targa ovviamente sempre con il pagamento dei 6 euro così come accade per il servizio online questa è l'applicazione ac space dell'android e questa è l'applicazione ac space per ipad e iphone che mi pare più o meno che funziona entrambe nella stessa maniera e questo è veramente tutto alla prossima volta